La funzione Safe Exit of Occupants utilizza i dati dei sensori radar su entrambi i lati del paraurti posteriore per avvisare l'occupante del veicolo di un veicolo, una moto o una bicicletta in avvicinamento quando apre una portiera. Il sistema funziona a veicolo fermo e rimane acceso per circa 45 minuti dopo il disinserimento dell'accensione. Quando una portiera viene aperta e viene rilevato un oggetto in movimento, viene visualizzato un segnale luminoso sugli specchietti retrovisori esterni e all'interno delle portiere. Se l'oggetto è vicino, viene emesso un segnale acustico nell'abitacolo con il messaggio Rilevato ostacolo laterale sul quadro della strumentazione. È possibile attivare o disattivare manualmente questa funzione dalla schermata centrale di Open Arlink. Passare alla sezione Veicolo e selezionare Assistenza al parcheggio. Parcheggio. Quindi selezionare Uscita sicura degli occupanti. Selezionare On o Off. Inoltre, è preferibile disattivare la funzione in caso di traino, in quanto il rimorchio e il gancio di traino potrebbero struire i sensori. Se il sistema riconosce un gancio di traino, la funzione si disattiva automaticamente e sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio Sensori radar laterali non disponibili con il messaggio Off sullo schermo multimediale. La funzione non emette un avviso in determinate condizioni. Quando il veicolo è in movimento, quando è bloccato dall'esterno o quando gli oggetti rilevati si muovono lentamente e non costituiscono pericolo di collisione. Assicurarsi che i radar su ciascun lato del paraurti posteriore non siano ostruiti da sporcizia, ad esempio sporcizia, fango o neve. Lo stesso vale per le spie e retrovisori. Tenere presente che questa funzione è un ausilio aggiuntivo che non può in alcuna circostanza sostituire la vigilanza del conducente o di qualsiasi altro occupante del veicolo.